Si chiama Next il numero monografico 379 della rivista L'ingegnere italiano presentato in Regione Toscana e dedicato interamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Il volume è curato da Valdospini, Presidente dell'Associazione delle Istituzioni Culturali Italiane ed ex Ministro del Governo. Nella monografia speciale sul PNRR ci sono importanti articoli tecnico-scientifici e contributi di numerosi rappresentanti del Governo. L'obiettivo è fornire una sintesi utile per questa grande opportunità di ricostruzione. Credo che sia merito degli ingegneri avere fatto forse quello che è il primo instant book sul PNRR che c'è in Italia. E allora abbiamo cercato di focalizzare in particolare il tema del moltiplicatore. Come è noto, gli investimenti pubblici, se sono ben indirizzati, creano un incremento del prodotto interno lordo più che proporzionale all'investimento stesso. Siamo di fronte a una scommessa epocale per il nostro Paese. Abbiamo l'occasione straordinaria, forse unica, di avere le risorse necessarie per risolvere i problemi che fanno del nostro Paese un Paese alle soglie dell'innovazione, pronto a recuperare il gap tecnologico, strutturale rispetto ad altre realtà europee. Noi dobbiamo avere la contezza, la solidità, l'attenzione di individuare le priorità. Alla presentazione della rivista sono intervenuti anche i vertici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Presidente Armando Zambrano e i vice Gianni Massa e Giovanni Cardinale.